In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi. Nuova puntata di Motors Week. Quest'oggi, come vedrete, non ci troviamo su un campo di gara o su una prova speciale, ma siamo in compagnia di Beppe Simonato per parlare di tutta una serie di argomentazioni che riguardano l'Iveco. Per dirvi in breve chi è Beppe Simonato, Beppe Simonato è il motor expert di Iveco, ovvero colui che si occupa di tutte le competizioni all'interno dell'azienda, coordinatore di alcune avventure, ma noi vogliamo farcelo dire direttamente da lui il suo impegno all'interno di Iveco e le sue più recenti avventure. Buongiorno a tutti, il mio lavoro è la mia passione, ecco perché abbiamo accennato al mio impegno professionale in Iveco, che è stato compreso a suo tempo e che ha trasformato un'attività professionale normale in una profondamente dedicata e spinta soprattutto dalla passione. Beppe Simonato è una persona fortunata che ha avuto questa opportunità di far diventare la propria passione e il proprio lavoro e quindi spesso e volentieri le cose si mischiano perché utilizzare i fantastici cammi Iveco per l'attività professionale o in iniziative estremamente private è sempre per me non solo un dovere professionale ma anche un piacere per riuscire a raggiungere gli obiettivi che mi pongo in questa avventura. Fantastico, grazie per questa introduzione, penso sicuramente molto esaustiva. La mia prima domanda, se possiamo, è chiederti che cosa abbiamo qui alle nostre spalle. Non è casuale che siamo seduti, diciamo così, ai piedi o meglio con un quadro che racconta con questa immagine non solo un camion ma racconta una grande storia che ormai è diventata una leggenda che è quella di Overland Iveco. I camion di Iveco nel 1995 partirono, proprio questo è uno dei quattro musoni originali, partirono per la prima spedizione, la Roma a New York che doveva essere un viaggio fine a se stesso ma che in realtà poi per i risultati che ha dato si è trasformato in una serie televisiva e quindi nota al grande pubblico ma soprattutto in una grande avventura di girare il mondo con questi camion per scoprire con lo spirito del viaggiatore i posti più reconditi del mondo e vivendo delle avventure che solo la televisione o dei libri possono raccontare e far vivere gli spettatori. Benissimo, io ti volevo chiedere subito partire e dire l'impegno di Iveco ovviamente nelle competizioni sia off-road che rally che raid e anche pista sappiamo è sempre molto grande l'impegno ma un riscontro che tutte queste attività possono portare all'interno dell'azienda come magari sviluppo piuttosto che sperimentazione se vuoi dirci qualcosa. Sicuramente Iveco è un'azienda molto dinamica nel corso di questi decenni della sua storia non dimentichiamo che Iveco nasce nel 1975, ha sempre avuto un occhio di particolare riguardo per tutta l'attività sportiva, motorsport e anche per questi grandi ride o iniziative come Overland che sono nate grazie a un'idea condivisa con un grande viaggiatore, inventore di viaggi quale è stato Beppe Tenti. Il significato di queste attività sia di ride e nel motorsport, quindi con i rally e con le corse in pista è duplice. Da una parte c'è la visione e la dimostrazione del dinamismo dell'azienda e della voglia di mettersi sempre in competizione e quindi di voler vincere le sfide che lo sport presuppone. Dall'altra parte c'è un ritorno assolutamente importante di natura tecnica perché tante volte abbiamo usato non solo come slogan ma proprio convinto anche i nostri clienti che certe peculiarità e certi miglioramenti del prodotto di serie, cioè del camion che poi viene venduto per lavorare ai clienti è generato e è stato supportato dalle esperienze delle attività sportive. Quindi un'importanza questa di essere presenti nelle attività sportive e nei grandi ride che ha dato questa nomea di Veco di essere un'azienda dinamica e di essere un'azienda che praticamente usa il nostro slogan di oggi in arrestabile perché vuole vincere ogni sfida di ogni genere. Grazie, molto interessante e quindi tornando a Overland, di sicuro sono tante le edizioni a cui tu hai partecipato, che hai coordinato, ci sono degli aneddoti se ci vuoi raccontare che cosa consiste in partire all'avventura con tutti questi mezzi, se ci sono dei pericoli da affrontare, se è difficoltoso attraversare le frontiere piuttosto che qualcosa in particolare che ci vuoi raccontare tu. Beh, aneddoti ce ne sono milioni, quindi forse questa è la sede non propriamente adatta a raccontare tutta questa vicenda. Sicuramente ci sono dei momenti particolarmente significativi che sono rimasti nella mia e di tutti gli altri partecipanti in memoria, io ho avuto anche l'opportunità di scrivere un libro che racconta molti di questi momenti. Direi che sono più che delle avventure, dei veri e propri momenti di vita, sì nell'avventura, ma sono proprio delle condizioni di vivere in modo completamente diverso a quello che siamo abituati a tutti i giorni e di conseguenza portare a casa un bagaglio di esperienze incredibile che poi può essere raccontato, ma anche a mio avviso utilizzato nella vita di tutti i giorni per affrontare quelli che sembrano i problemi più banali di tutti i giorni con uno spirito più completo e con una dimensione ancora più appropriata. Quindi certamente è un'esperienza che arricchisce e che riempie gli album di ricordi e pagine magari indelebili che uno non vede l'ora di riscrivere nell'edizione, se ci sarà futuro. Io volevo soffermarmi anche sulla tua professione, volevo chiederti se ti senti di più un pilota piuttosto che un tecnico, un organizzatore all'interno di Iveco. Nel corso degli anni i ruoli rivestiti sono stati differenti e devo dire la verità che questa poliedricità mi è molto utile perché sono fondamentalmente una persona curiosa, quindi il tecnico che aiuta gli ingegneri con suggerimenti di allestimento, di preparazione dei veicoli, il logistico, l'organizzatore o coordinatore di questi viaggi, di queste attività sportive che hanno tutta una casistica organizzativa molto complessa e di conseguenza grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni ho potuto mettere a disposizione dell'azienda di queste iniziative tutto il mio sapere. Ultimo o non ultimo, forse la cosa più divertente è anche il pilotaggio, quindi essere il pilota di questi veicoli è prima di tutto una sfida con se stesso e poi soprattutto è un modo per sottolineare anche un pochino il rapporto che nel corso degli anni è nato tra me e l'azienda e di sentirmi anche un po' un portabandiera di questa azienda quando ci sono queste competizioni, quando ci si trova il volante, sia in una competizione o anche in un ride come è stato Overland. Benissimo, un'altra domanda che mi viene in mente è l'impegno di Iveco nei rally, nei raid è affiancato anche da un grosso impegno in pista, se vuoi parlarci anche di asfalto piuttosto che di avventure su dune, di deserti? Sì, personalmente lo dico subito, sono un po' sbilanciato come piacere personale verso la sabbia, il deserto e il fuoristrada, però indiscutibilmente devo riconoscere che in quest'ultimo decennio c'è stato uno sviluppo del campionato europeo dei camion che ha portato Iveco a interprendere anche questa iniziativa attraverso dei team privati esterni e abbiamo conseguito degli ottimi risultati sia in termini tecnici che in termini di vittorie perché abbiamo già conquistato due campionati europei e siamo campioni in carica. È un'attività sportiva molto eccitante e praticamente come la chiamo io la Formula 1 dei camion, ci sono queste gare che sono dei veri e propri gran premi che si svolgono all'interno dei maggiori circuiti europei dove diversi camion, 18-20 in genere in media per gran premio, combattono come proprio la Formula 1 dell'automobile in pista e a suon di prestazioni potete immaginare qual è la difficoltà di condurre 55 quintali di un camion grande molto più grande di un'automobile di Formula 1 da parte di questi piloti quindi la professionalità anche in questo ambiente motorsport è estremamente elevata e siamo assolutamente molto fieri di aver conseguito questi risultati in questi pochi anni e di sentirci comunque sempre in pole position per usare un termine da pista anche in questo tipo di attività. Benissimo, e io adesso che ho capito che sei decisamente più incline ai rally, ai raid piuttosto che alla pista anche se giustamente l'impegno è davvero grande, se posso chiederti di fare un confronto tra l'Africa Race e la Dakar quale preferisci, quale pensi sia la più spettacolare o quale vivresti nuovamente in prima persona? Devo ringraziare la storia di VECO e l'esperienza che ho avuto perché ho disputato alcune Parigi Dakar di un tempo ho avuto modo di partecipare anche alle ultime Dakar in Sud America in questi ultimi dieci anni e soprattutto mi sono avvicinato da qualche anno all'Africa Eco Race come rally parallelo per periodo di svolgimento. È un po' complicato, è un po' difficile scegliere perché sono tutte e due delle grandissime competizioni storiche hanno però delle differenze e le possiamo notare ancora meglio quest'anno dopo la disputa della Dakar per la prima volta in Arabia Saudita. Diciamo che l'Africa Eco Race è la vera erede della Parigi Dakar di un tempo perché si corre sugli stessi percorsi, negli stessi scenari e soprattutto si ritrova lo spirito primordiale della Parigi Dakar dei primi anni 80 e poi 90 e questo per un concorrente è assolutamente importante perché si sente proprio un protagonista di quella che è la vera esperienza e con l'obiettivo di arrivare a Dakar questo nome mitico, leggendario che solo a nominarlo evoca la voglia di sfidare il deserto per raggiungere questo traguardo. Per contro la Dakar si è trasformata invece in un rally molto professionale, un rally che oggi si disputa in un paese così atipico per certi aspetti, ma su dei percorsi molto forestradistici, soprattutto con una prevalenza di sabbia come l'Arabia Saudita. Il primo anno quest'anno è andato bene, vedremo un attimino nel corso del prosieguo dei prossimi anni perché ci sono altri 4 anni di Dakar in Arabia Saudita come eventualmente la corsa si svilupperà. Per rispondere sinteticamente alla tua domanda, se devo fare proprio una scelta sono un po' in imbarazzo, ma se sono proprio costretto scelgo comunque ancora l'Africa Race. Benissimo, io ti interrompo per un secondo perché lanciamo un brevissimo spot pubblicitario e intanto noi magari continuiamo la nostra coccherata. Ah, fra pochissimo. Carissimi amici, benvenuti all'Auto Francia, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Prestate molta attenzione perché abbiamo un'offerta esclusiva veramente da non perdere perché abbiamo messo 10 Fiat Tipo, 1.6 turbodiesel, 120 cavalli, station wagon, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo, il tablet a 7 pollici, il climatizzatore automatico, retrocamera, aziendali quindi pari al nuovo, un prezzo veramente imbattibile. Solo 11.900 euro, volendo finanziamento in anticipo zero, rate che partono da 189 euro mensili. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, vi aspettiamo! Ci ritroviamo sempre in compagnia di Beppe Simonato. Continuiamo la nostra intervista e a me verrebbe da chiederti se è possibile, sono tanti i piloti di rally che negli anni si sono avvicinati anche a discipline che li hanno portati nei deserti più difficili del nostro pianeta. Qualche pilota, titolato o non in particolare, che tu hai avuto modo di seguire da vicino, di cui hai un bel ricordo o di cui ci vuoi raccontare qualche storia? È stata una fortuna, io direi così, poter lavorare, è un grande onore, poter lavorare per uno dei più grandi campioni dei rally della storia, forse il più grande campione italiano perché ha vinto due titoli mondiali con le automobili e insieme con il camion abbiamo vinto due volte la Coppa Fiat Track nel campionato del mondo rally ride. Sto parlando del grandissimo Mickey Biesion. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui, di lavorare per lui e veramente è stata un'iniziativa, un'esperienza incredibile. Ho conosciuto l'uomo, ho conosciuto il pilota e ho conosciuto soprattutto il campione perché il campione ha dimostrato una volta di più, cambiando completamente il veicolo, passando da un'automobile da rally che è paragonabile, queste sono le sue parole, a un motoscafo d'altura e passato a un camion nel mare di sabbia del deserto della Parigi Dakar e come dice lui si è passati da un motoscafo d'altura a una barca a vela. Comunque Mickey Biesion ha dimostrato, anche con i risultati, di essere veramente un campione e sono fiero e orgoglioso di aver contribuito ai suoi successi con l'Eurocargo Iveco 4x4 con i mondiali del 98-99. Benissimo, proprio quello che volevo sentirmi dire. Parlando di veicoli, sappiamo che da deserto non sono solo tanti tipi di camion o di 4x4 in generale, c'è qualche vettura magari un pochino più piccola che tu hai avuto modo di utilizzare negli anni in condizioni magari che non siamo proprio abituati a vederla, io ricordo delle foto ma non voglio che sia tu a dire se hai qualche altro veicolo di cui ricordi in qualche particolare circostanza e che ci tieni a menzionare. Io fondamentalmente ho avuto esperienze quasi esclusivamente con i camion, con i camion Iveco peraltro, però ricordo con piacere un'iniziativa un po' particolare di qualche anno fa in un ride molto impegnativo che è praticamente un po' il ride simile all'Africa Eco Race come percorso che si chiama Sara Desert Challenge. Tutto cominciò con uno scherzo che poi si tradusse in un ulteriore sfida, un ulteriore progetto personale e partimmo in questo ride con un'automobile un po' anticonvenzionale per questo tipo di attività ma che aveva un passato illustre, era la macchina di assistenza veloce del team Fiat Iveco Panda Car del 2007 e questa vettura era una Fiat 16 4x4. Ebbene, con questa piccola vettura abbiamo affrontato il deserto e siamo riusciti a portarla a Dakar con uno sforzo nell'arrabile, autoassistita e quindi questo è stato un ulteriore punto di soddisfazione nella mia vita professionale e avventurosa perché con questa iniziativa ho dimostrato che qualcosa di buono sono capace a fare anche con gli automobili e non solo con i camion. A questo proposito però rimane un piccolo sogno nel cassetto che magari dopo mi chiederai e cercheremo di spiegare. Bene, sì, la passione trappela sicuramente tra le tue parole e ci hai messo voglia sicuramente di provare a metterci in gioco magari ci sarà occasione in questa vita di farlo. Se posso continuare a farti delle domande io vorrei chiederti se un hobby in particolare riesce a trovare spazio nella tua vita. Sei anche degli hobby che vanno al di fuori di tutte queste bellissime esperienze che fino a qui ci hai raccontato. Beh, è un po' difficile avere degli hobby nella condizione un po' monotematica come la mia che può sembrare anche magari un pochino noiosa ma assolutamente non lo è. I miei hobby sono tutti allineati a questo tipo di attività professionale, quindi ride e rally e attività motorsport in genere, nel lavoro, viaggi avventurosi per diletto, per hobby, quindi camper 4x4, moto e quad nel deserto, cose di questo genere. Possiamo anche tradurre questa spiegazione che ho appena dato con non hobby o meglio l'hobby è il mio lavoro e questo rende comunque la mia dimensione di persona una persona soddisfatta di quello che fa e che attinge lo spirito di vita proprio da questo tipo anche di iniziative che mi hanno insegnato tantissimo non solo in termini tecnici ma anche proprio a livello di completamento della mia formazione personale. Capito, quindi diciamo che quello che forse dicevi in apertura di servizio hai avuto la fortuna proprio magari di fare il lavoro dei tuoi sogni o come magari un aneddoto io leggendo il tuo libro L'Africa dal mio camion, mi ricordo anche nella prefazione che tu cerchi di spronare le persone a perseguire i propri sogni e a non mollare, quindi questo ti fa molto onore nel tuo caso sei un esempio lampante che ci si può arrivare, che perseguendo nella vita ci si può arrivare. Sempre tornando al libro L'Africa dal camion, quindi tornando al tema di Overland che non abbiamo mai comunque del tutto messo da parte e abbiamo parlato di qualche aneddoto, abbiamo parlato della pericolosità, non so io leggendo il tuo libro mi ricordo delle esclamazioni piuttosto che il vostro motto che avevate durante magari la spedizione numero 12, Overland 12 e ce li vuoi dire tu? Qual era il vostro motto? Qual era un'esclamazione molto frequente che vi trovate a dire quando non c'era, magari perdevate, non dico le speranze, ma per non dire parolacce qual era la vostra esclamazione? Beh, è difficile per chi non ha un minimo di immaginazione capire cosa può essere stato Overland, 12 soprattutto, cioè la spedizione più difficile della storia. Indiscutibilmente i problemi e i pericoli sono stati tantissimi, però ogni volta, questo è nello spirito degli uomini di Overland, bisognava trovare una soluzione immediata, una soluzione che poteva portarci avanti perché uno dello spirito della spedizione era fondamentalmente quello di non fermarsi mai, perché se ci si fermava in termini di ostacolo insormontabile saremmo caduti in un pericolo molto maggiore di quelli che già si viveva procedendo, diciamo così, nella nostra tabella di marcia. Beh, se la freak, se la freak era una esclamazione quando il difficile diventava quasi impossibile, ma che poi noi riusciamo a tradurre in riuscita, impossibile, ma questa espressione francese, ma molto diffusa, dava un po' la dimensione di certi momenti. Poi ci sono stati dei momenti personali, ma anche di gruppo, particolarmente difficili, particolarmente ostacolanti, sia da parte degli uomini, quindi delle popolazioni locali o della natura in particolar modo, però il nostro motto, che era un pochino quello di darci coraggio l'uno con l'altro, era se comunque il destino è contro di noi, che ci mette di fronte a tutte queste difficoltà, peggio per lui, perché noi riusciremo comunque a procedere. Fantastico, bellissimo questo motto. Nel tuo libro anche leggevo di volte nelle quali vi siete dovuti un pochino a raggiare con le riparazioni. Ovviamente avevate un'officina più che, come possiamo dire, più che completa per poter fronteggiare i problemi che pensavate di trovare durante il percorso, ma io mi ricordo forse di una balestra che non eravate riusciti a sostituire, ma dimmi tu, come eravate riusciti a ovviare a quel problema, in quella situazione? Faccio un piccolo passo indietro, prima di tutto bisogna considerare che in questi ride e anche nei rally ride, l'assistenza tecnica è fondamentale, perché comunque le macchine hanno bisogno di una cura, alla persona. Nei rally ci sono i meccanici, c'è una squadra di meccanici che ti segui, che tutte le sere ritrovi, o perlomeno bisogna ritrovarli al bivacco per poter mettere i mezzi nelle loro mani per i ripristini per la tappa successiva. Per quanto riguarda i ride, c'era un servizio di assistenza autonomo, come si può immaginare, dove gli autisti erano anche meccanici e meccanici di grande spessore, di grande capacità e di grande dutilità, viste le condizioni particolarmente disagiate in cui si trovavano ad operare. Ma di fronte ai tanti problemi, qualche volta, come si diceva anche prima, c'erano dei problemi più grandi e apparentemente insormontabili, dove oltre la capacità tecnica ci serviva un guizzo di ingegno. Il guizzo di ingegno è l'esempio classico della balestra del mio camion rotta in Centrafrica durante una tappa di Overland 12, abbiamo avuto il problema di non avere il pezzo di ricambio come purtroppo poteva raramente, ma comunque capitare e ci si è ingegnati abbattendo un piccolo fusto d'albero e disegnando il legno, scolpendo il legno per farlo diventare un appendice della balestra rotta e poter così non solo procedere e togliersi da quell'impaccio improvviso di impantanamento, ma addirittura proseguire per una settimana e circa 2000 km fino al punto dove saremmo riusciti poi a sostituire completamente tutto il gruppo. Questo è stato un esempio di tenacia, di intuito e di capacità che solo grandi meccanici e i grandi uomini di Overland, Iveco, hanno potuto dimostrare in questi frangenti. Chi ti conosce lo sa, tu sei una persona estremamente positiva, cerchi sempre di dare la carica, di dare la scossa. Ci sono mai stati momenti dove veramente lo sconforto, data la stanchezza, magari ti ha fatto pensare, cavolo non so se ce la faremo, arriveremo in fondo. Ci sono questi momenti evidentemente perché fanno parte della natura dell'uomo, ma a noi ci si allena anche e soprattutto per questo, allenarsi per un rally o allenarsi per un ride e soprattutto cercare di capire qual è il proprio limite e cercare di gestire quel proprio limite nel momento della massima difficoltà. Ci sono stati tantissimi momenti di questo genere ma grazie a Dio anche siamo stati bravi a superarli e soprattutto quando si parla di team, uno può immaginare il team, ognuno ha il suo ruolo, sì certamente, ma soprattutto il team è essere sempre tutti, uno per tutti e tutti per uno e non è un luogo comune, ma è la realtà di come poter affrontare queste avventure. E se ci vuoi dire se recentemente anche sei riuscito a farti una vacanza, lavoro da qualche parte, a seguire qualcuno dei ragazzi impegnato? Ma vacanze non sono mai, è sempre praticamente lavoro e ho comunque impegno in questo tipo di attività, anche se quest'anno non c'è stato un impegno specifico con la partecipazione all'Africa Race 2020, ho comunque seguito la gara, ho potuto seguire la gara in una forma un po' particolare e devo dire che questo mi serve personalmente per poter continuare a vivere questo tipo di esperienze e soprattutto per capire sempre di più contenuti, segreti e informazioni sulle gare per iniziare nuovi progetti e abbiamo tanto ed importante che bolle in pentola per il futuro. Benissimo, io vorrei concludere con un'ultima domanda, se hai eventualmente un sogno nel cassetto, qualcosa che non hai ancora fatto a livello di avventura e che per adesso magari è un sogno, ma qualcosa che è un sogno nel cassetto in sostanza. I sogni muovono la vita, i sogni sono sempre stati il mio spirito, sono sempre stati il mio punto di partenza di nuovi progetti, ho accennato a un grande progetto che stiamo svolgendo, preparando e che speriamo il prossimo anno di poterlo sviluppare, poterlo dimostrare con una partecipazione a uno di questi rally importanti, poi però effettivamente qualche sogno nel cassetto un po' particolare, un po' strambo se vogliamo dire così c'è, io vi dico solo questo, ho partecipato a questi rally, a questi ride con i camion, ho partecipato con le automobili, mi manca per chiudere il cerchio una partecipazione con un altro veicolo che vi lascio immaginare quale può essere, non a quattro ruote o a più ruote, questo potrebbe essere un sogno nel cassetto che un giorno, nonostante l'età, ma lo spirito secondo me vince l'età, potrebbe essere soddisfatto e potrebbe aggiungere un'ulteriore avventura al mio libro di avventure che giorno dopo giorno e anno dopo anno si spessisce sempre di più. Ringraziamo Beppe Simonato per la sua disponibilità e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Motors Week. Grazie a voi e alla prossima avventura. Carissimi amici, benvenuti all'AutoFrancia, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, prestate molta attenzione perché abbiamo un'offerta esclusiva veramente da non perdere, perché abbiamo messo 10 Fiat Tipo, 1.6 turbodiesel, 120 cavalli, station wagon, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo, il tablet a 7 pollici, climatizzatore automatico, retrocamera, aziendali quindi pari al nuovo, un prezzo veramente imbattibile, solo 11.900 euro, volendo finanziamento in anticipo zero, rate che partono da 189 euro mensili. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, vi aspettiamo! In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi. In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi.